Gentili telespettatori, buona giornata. Dico sì al Green Pass nelle scuole e in didattica a distanza solo i figli dei non vaccinati. Questa mi sembra veramente grossa. Chi è che racconta questa cosa? È il sindaco di Bologna, Lepore. Scriverà una lettera alle famiglie bolognesi per chiedere che immunizzino i propri figli. Il tracciamento va messo poi in discussione. Pertanto questo sindaco pensa che in didattica a distanza, cioè a casa, gli alunni figli di non vaccinati. Questa mi sembra veramente una discriminazione senza senso. Cioè se i tuoi genitori non sono vaccinati allora tu devi stare a casa, a fare la scuola da casa. Credo che questa affermazione si possa commentare da sola. Vedo che ognuno in Italia, ogni politico dice la sua e stiamo vedendo anche delle cose veramente, ascoltando delle cose veramente incredibili. Poi sempre su questo argomento vi parlo delle richieste di tamponi che sono triplicate. Ci sono code dappertutto e alcune farmacie si arrendono perché poi il tracciamento già è in crisi. Il tracciamento realmente non ha mai funzionato in Italia come tante cose e non c'era alcun dubbio. I contagi sono in risalita. Andiamo a vedere che c'è anche un mese d'attesa. Nessun posto fino a metà gennaio. Telefoni in tilt, per fortuna con qualche eccezione. Le farmacie reggono chi più chi meno l'urto della risalita dei contagi. Il boom di richieste di un tampone per escludere la propria contagiosità in un contesto già oberato dalla delegazione Novax che di un tampone rapido ha bisogno almeno tre volte a settimana. Ecco perché alcune farmacie ad esempio di Milano alzano bandiera bianca, tutto esaurito, agende al completo. Così ci si accalca in quelle che fanno i tamponi senza prenotazione, con numeri da centri ospedalieri più che da farmacie cittadine. Ma questo è solo un lato della medaglia. L'altro è il tracciamento da parte dell'ATS che è assolutamente in affanno, che satura il 90% degli slot disponibili e sta lavorando con le zone ospedaliere per incrementarli. L'aumento esponenziale dei test prenotati tramite il proprio medico e quindi la possibile attesa per ricevere un appuntamento. Le code, pensate un po' fino a tre ore, ai drive traugt, traugt, delle città. Tre ore di coda per un tampone. Quindi uno che va a lavorare e gli serve il tampone, esce dal lavoro, non lo so, alle cinque e va a farsi tre ore di fila, non so, dalle sei fino alle nove di sera per il tampone per il giorno dopo. Diventa un po' pesantuccio direi. Ieri ad esempio a San Paolo dove si accede soltanto con appuntamento dato dall'ATS tramite il medico di base, con l'eccezione del mondo scuola che può presentarsi liberamente, ha registrato numeri da capogiro, tre ore di coda come vi dicevo. Il numero dei test che effettuiamo dicono sulla base della programmazione che ci fornisce ATS, spiegano dalla Croce Rossa di Milano, che gestisce le linee e tamponi, è triplicato rispetto a un mese fa. Qui si fanno sia gli antigenici sia i molecolari. Se il primo risulta positivo si fa il secondo. Nella giornata di giovedì siamo arrivati a quasi 400 tamponi effettuati. Qualche settimana fa non superavamo i 120-150. Le lunghe code, spiegano dal San Paolo, si formano per via degli autopresentati del mondo scuola che dice che di quando si aumenta l'incidenza tra i più piccoli, eccetera, eccetera. E poi, a parte anche queste code, i positivi per esempio in Lombardia hanno raggiunto i 6.119 con un impatto sugli ospedali che in attesa del nuovo aumento di posti letto in area medica per arrivare a 10.500 ha toccato il 14,41% di occupazione da parte dei pazienti Covid. Perché? Avete capito perché la Lombardia non cambia colore? Perché riesce ad aumentare i posti letto. Aumentano le richieste di posti letto e loro aumentano i posti letto. Pertanto la percentuale riescono sempre a tenerla sotto il limite per non passare. in zona gialla. Quindi non è che in Lombardia ci siano meno casi che in altre regioni. Sono di più. Solo che in Lombardia hanno la capacità di creare più posti letto che in altre regioni. E così la media è al 14,41% e non supera quel 15%, che è uno dei tre parametri che indicano la zona e il colore di una regione. Beh, chi non ha un appuntamento prenotato tramite un medico di base si rivolge alle farmacie che affettuano tamponi rapidi. Già prese d'assalto dalla popolazione che priva di vaccino necessita di Green Pass temporaneo. Nella maggior parte dei casi si procede per appuntamento. E trovare un posto libero non è sempre facile. Linee telefoniche sono costantemente occupate. Una farmacia in zona Cordusio blocca subito la conversazione. A gente piena fino a metà gennaio. fino a metà gennaio. Dice, scusi, io dovrei fare il tampone e per domani vado a lavorare. Eh, venga il 16 di gennaio. Ma io devo andare a lavorare domani. Mi spiace. Altre in Porta Ticinese o al Giambellino nella prenotazione effettuabile online mostrano le prime date disponibili comunque dopo Natale. In Porta Venezia ammettono di non riuscire neppure rispondere al telefono. Qui si viene senza prenotazione e ieri la coda non ha cessato di formarsi fino a sera. Da via Ripamonti parlano di un aumento impressionante. Dice, siamo berati, dice la titolare di una farmacia. Vendiamo anche gli autotest che sono passati da poche decine a 300-400 al giorno. Sono normali antigenici ma non rilasciano Green Pass. Dei normali tamponi rapidi ne facciamo oltre 400 al giorno con un aumento rispetto a un mese fa del 30%. Certo che le farmacie hanno un bel giro d'affari ultimamente, insomma. Saranno berati ma saranno anche berati di entrate economiche perché, insomma, quanto costa il tampone a Milano? 15? 15 euro? Era il prezzo calmirato? E ancora 15 euro? Scrivetelo magari sotto nel video. 15 euro ne fanno... Allora, facciamo un calcolo, eh? 15 euro di tampone per 400 persone, 6.000 euro solo di tamponi. Moltiplichiamo per 26 giorni al mese? Eh, 156.000 euro di fatturato solo per i tamponi. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Arrivederci a tutti e grazie.